Lo so, avreste voluto vedere subito il video, ma la vita non è così semplice. Anche a me piacerebbe avere milioni e milioni di iscritti, ma invece... Non è così. Trovate il link in descrizione per vedere il video sulla pagina Facebook. A proposito, fortunelli e strati, come vi è andata la maturità? Scrivetelo qui sotto nei commenti.